Parere negativo sul bilancio comunale 2016 lo ha espresso la terza commissione consigliare del comune preseduta dal consigliere di forza etaria Salvatore Scerra. Lo strumento finanziario è fondamentale per gli equilibri dell'ente comunale. Se questa sera non passa nella seduta della stessa civica si rischia il commissariamento. Parabola significa che si creerebbe un vero e proprio tsunami politico. La bocciatura del conto consuntivo 2016 infatti decrederà il terremoto all'interno del consiglio comunale. Il no al bilancio è arrivato oltre che dal presidente Scerra anche dai consiglieri Romina Morselli, Enzo Cirignotta e Simone Morgana. Avrei voluto votare sì, avrei voluto esprimere un parere favorevole e per fare questo abbiamo messo, abbiamo cercato di mettere l'amministrazione nella condizione di poterci mettere nella serenità di dare un parere favorevole. Così non è stato. In questi mesi abbiamo lanciato diversi segnali in questo senso. Quindi continuano ancora oggi a persistere diverse ragioni di censura. Quali sono le censure che noi muoviamo a questo schema di bilancio? Troppe divergenze. Troppe divergenze tra il debito dichiarato e il credito delle partecipate. Troppe incertezze su quelli che sono i reali costi del servizio ad esempio di raccolta. Quindi troppe incertezze sui debiti che noi abbiamo nei confronti delle partecipate sul servizio di raccolta rifiuti. Troppe incertezze e moltissime incongruità su quelli che sono i debiti che il Comune ha nei confronti dell'autorifiuti, su quello che il Comune ha nei confronti della partecipata GELAS. Per cui abbiamo ritenuto che non sia proprio affatto possibile poter esprimere un parere positivo a questo schema di bilancio. Questo è un bilancio senza programmazione, che non guarda l'agricoltura, che danneggia l'agricoltura, che sceglie di destinare briciole all'agricoltura per sparpagliare quelli che sono dei fondi in giro in maniera frammentata. Questo bilancio non costruisce, questo bilancio rinuncia a programmare un futuro della città. Diciamolo chiaramente. Questa è la peggiore continuità che ci potevamo aspettare. Non è che siamo contrari in modo preconcetto. Noi diamo dei suggerimenti alla Giunta. Teniamo conto dei debiti delle società partecipate. Abbiamo sottolineato l'importo non congruo relativo alla tariffa sui rifiuti. Se la Giunta municipale recepisce questi due suggerimenti e fa chiarezza sui debiti e sulle tariffe tari, siamo pronti a votare sì. L'unica voce fuori dal coro è quella del consigliere del Polo Civico, Sandra Bennici. Mi sono astenuta perché non condivido la posizione del resto della Commissione. Anche perché loro hanno motivato il no dicendo che ci sono dei debiti che non sono stati inseriti, quasi paventando il falso in bilancio. Se la pensano così si rivolgono al commissario che è stato nominato e quindi denuncino prundo un falso in bilancio. Io non voto sì perché non voglio andare a casa, che sia chiaro. Non sono ancora dalla poltrona, però secondo me ci vuole più coraggio a governare che andare via.